Presidente uscente Giovanni Lollio a questo punto, che sensazioni ha provato quando ha passato la targa delle consegne? Molta emozione, adesso direi l'occhio mi correva verso la finestra per vedere l'evoluzione del meteo perché quello scandirà i tempi della mia vita nei prossimi giorni andando in montagna, però insomma grande emozione sono stati 5 anni importanti, non ho fatto tante nella mia vita, qualcuno può dire troppe ma insomma questa è stata una di quelle che più mi ha coinvolto, più mi ha appassionato, più mi ha impegnato io l'ho fatta proprio con un grande impegno mettendoci tutte le mie modeste, limitate capacità e quindi insomma conosco bene Marco Marsilio, lo stimo da anni, adesso a parte il fatto che militiamo in campi avversi e mi auguro che lui voglia affrontare, sono sicuro anzi che affronterà questo nuovo impegno con tutta la passione che ci vuole ho provato a consigliargli di non prendere la leggera perché l'Abruzzo può sembrare una piccola regione in realtà è una regione molto complessa, con problemi molto complessi, è però una regione che ha grandi potenzialità noi in questi anni abbiamo provato queste potenzialità a provare a farle sviluppare un po' ci siamo riusciti, molto no, naturalmente io guardo sempre dal punto di vista dei cittadini i quali si aspettano da chi governa molto perché purtroppo la fase storica che viviamo è una fase storica di disagio per la gente la gente si aspetta che chi governa risolva i problemi e non sempre i problemi sono risolvibili facilmente e noi stessi non tutti i problemi abbiamo risolti, anzi molti li abbiamo lasciati o irrisolti o parzialmente risolti e quindi la gente giustamente ha chiesto di cambiare, è nelle cose, segnalo che la regione Abruzzo da quando c'è l'elezione di lettera del governatore ogni volta c'è stata l'alternanza significa che nessuno è riuscito finora a mettersi in totale sintonia con le aspettative oppure significa che i problemi sono talmente complicati che non è facile risolverli io credo di poter dire che lasciamo la situazione generale più serena siamo usciti dal piano del commissariamento per quanto riguarda la sanità abbiamo riallineato con dei liberi di giunta i conti e li abbiamo fatti in riaccertamento anche in dialogo con la Corte dei Conti dei bilanci precedenti i fondi comunitari sono tutti in linea, almeno questi fondamentali ci sono questa regione è una regione certamente piccola ma complicata e quindi c'è molto da lavorare c'è molto da lavorare